Al mare ci portavo lo stesso, perché se per caso non andavo al benedì, ti portavo sia come una settimana o due giorni, gli facevo il bagno, tranquillamente era tranquillo. Al mare ci portavo uguali, da parte di scherzi. Sono molto contento, è stata una cavalcata veramente fantastica, ragazzi eccezionali. Non me l'aspettavo perché all'inizio lo riconoscevo, l'ho preso a dicembre, contentissimo. Veramente non ho parole, cioè... Bene, 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 bene.